page del nostro sito trovate la notizia sulla partenza dell'accreditamento dentro adesso copio pure questo se riesco trovate tutte le informazioni allora qui vedete per effettuare l'accesso alla piattaforma sarà necessario compilare il form quest'anno diciamo che sarà tutto un po più automatico rispetto alla precedente finestra di accreditamento qui trovate la scadenza che al 30 novembre alle ore 20 qui c'è l'allegato col che spiega la procedura di accreditamento e qui un facsimile del questionario che sarà utile magari per chi prima vuole guardare il questionario e poi dopo eventualmente compilarlo nella piattaforma adesso mi incollo anche l'indirizzo della notizia specifica ok allora allora andiamo alla compilazione del questionario ovviamente io farò vedere una doppia schermata perché in realtà per chi compila sarà andrà tutto in automatico ma semplicemente perché mi muoverò sull'ambiente di produzione da una parte sull'ambiente di test da un'altra proprio perché non vogliamo sporcare l'ambiente di produzione perché l'ambiente di produzione poi destinato a voi dei musei allora collegandovi all'indirizzo che trovate nella notizia che vi ho incollato prima nella chat troverete questo url che vi servirà per compilare la forma di accesso quindi nome e cognome dell'operatore in questo caso compilo io la mail il codice fiscale e poi qui andate a selezionare i musei di vostra competenza io ovviamente selezionerò un museo di prova allora nel caso io ovviamente questa procedura serve per l'accesso con lo speed e quindi serve per l'invio alla regione del questionario l'invio alla regione del questionario deve essere fatto solo ed esclusivamente dal direttore dell'istituzione quindi questo form da accesso al direttore dell'istituzione per fare tutta la procedura quindi di compilazione e di invio finale quindi non esiste differenza fra compilatore e direttore in questo caso qui quindi qua potete andare a selezionare diciamo se ci sono più musei di competenza li potete selezionare da qua io poi salvo in questo caso vabbè ci metterà ecco voi riceverete voi vi troverete davanti questa schermata ma vi troverete davanti anche cioè vi troverete nella posta elettronica questo messaggio di richiesta di adesione che è stata presa in carico allora successivamente vi troverete di fronte a questa situazione e cioè a un elenco di musei che sono quelli che voi avete selezionato nel form di iscrizione io vado nel primo alla schermata che vi trovate davanti il menu di sinistra è questo qua quindi l'invio a regione che sarà la fase finale quella in cui avrete completato tutto lo invierete al protocollo poi c'è la parte dell'ana grafica e i tre quadri relativi proprio al questionario nella parte dell'ana grafica trovate già pre compilati e quindi non inibiti alla compilazione per voi il codice istat il codice pater che il codice con cui ogni museo viene indicato dentro la piattaforma a catalogo nostro catalogo del patrimonio e la denominazione del vostro museo le uniche cose che qua potete cambiare sono la descrizione il codice fiscale l'indirizzo tutti questi dati che vedete in chiaro sostanzialmente fino in fondo in realtà qui c'è anche un'altra adesso sono nell'ambiente di produzione di test ma nell'ambiente di produzione c'è anche un'altra schermata con note in questo caso qua le vostre segnalazioni se indicate delle variazioni che sono da fare che ritenete opportuno fare la segnalazione arriverà sia alla mail nostra del sistema museale regionale e sia a info catalogo quindi a pater per la rettifica dentro al catalogo del patrimonio quindi io in questo caso salvo e vado a compilare le schermate del questionario allora attenzione qui alla leggenda nel senso che qua vengono indicati gli standard minimi che sono quelli che servono per l'accreditamento gli obiettivi di miglioramento le info che sono campi informativi e i campi informativi contrassegnati con il simbolo asterisco ovviamente standard minimo obiettivo di miglioramento e i campi informativi sono tutti campi che vanno compilati assolutamente altrimenti non si arriva alla fine del questionario qua trovate nella lente la spiegazione dello stato giuridico dello status giuridico che è la stessa diciamo che trovate nei look a qui ovviamente io ho compilato un po di domande e arriviamo all'allegato questa è un'altra parte molto importante allora da qui cliccando sul più caricate un allegato qui trovate la dimensione massima dell'allegato da caricare quindi io mi vado a scendere adesso ovviamente scenderò un file a caso me lo carico seleziona adesso forse ci metterà un po ecco ricordati di salvare le modifiche tutte le volte che caricate un pdf dentro questa finestra è assolutamente necessario il salvataggio perché altrimenti poi magari si va avanti con la compilazione ci si dimentica di salvarlo e magari l'allegato rimane in questa parte qua degli allegati però non viene collegato al questionario quindi salvate e proseguite nella compilazione ovviamente le tendine qui vedete siamo al 90 per cento della compilazione nonostante io qualcosa abbia già compilato quindi mettiamo che non si faccia caso alla al fatto che il 90 per cento del questionario è compilato allora una volta che io arrivo in fondo vado scorro direttamente in fondo io mi trovo stato e in corso un attimo che vedo dei partecipanti in attesa da sole ammetto ok allora questo è molto importante allora io posso salvare lasciando lo stato in corso perché magari mi collego in un secondo momento e continuo la compilazione del questionario dato che come vedete è ancora al 90 per cento se io come dovrei fare poi per tutte le schermate cambio lo stato incompletato e salvo perché mi dimentico che qua c'è scritto 90 per cento il sistema ecco qua mi dirà che mancano tutti questi campi da compilare allora 14 1 14 2 quindi me li devo andare a cercare adesso non li compilerò tutti perché però ecco quando diciamo l'importante che tutte le schermate andiamo in collezioni tutte le schermate una volta al 100% vengano assolutamente cambiate in completato perché altrimenti il questionario non si salva e poi non ce lo ritroviamo nell'elenco dell'invio a regione quindi anche questo quindi questo era uno dei problemi che erano emersi l'anno scorso mi raccomando lo ripeto lo stato va cambiato una volta completato tutta la compilazione va cambiato da in corso completato salviamo e poi andiamo nell'invio a regione qui mi troverò adesso questo è un museo di prova qui mi troverò il questionario il mio questionario tutto compilato tipo questo qua che vedete farò l'invio a regione adesso io l'altro ecco salva ecco il qua se io non ho completato il quadro il sistema mi dirà che quadro organizzazione il questionario non risulta completato quindi vi rubo un po di tempo e vado a completare il questionario quindi cambio da in corso completato perché altrimenti non trovo le domande così 141 142 le vado a selezionare che dovrebbero ecco infatti vedete questa qua indicare il numero totale delle ore settimanali di apertura adesso metto un numero a caso e salvo 142 che è la info visitatori ok ok metto dei numeri casuali e salvo sempre 159 inforganico esterni volontari ok 159 quindi vi da come vedete il numero della domanda che dovete compilare adesso metto dei numeri a caso ok ecco quindi a questo punto avete compilato tutte le domande richieste perciò siete al 100% essendo al 100% salviamo adesso in invio a regione dovrei trovarmi il mio questionario ci metterà un pochino per carica perché sta caricando tutta la compilazione e un'altra cosa intanto che carica qui negli allegati troverete il vostro allegato e cioè lo statuto regolamento ma non potrete andarlo a modificare quindi un attimo di pazienza che è un procedimento lungo e quando andrete a compilare il questionario abbiate pazienza e aspettate un attimo perché se non termina questo processo non sarà inviato il questionario quindi la situazione che vi troverete davanti alla fine deve essere questo qua questa qui da qui potrete anche scaricare il documento una volta inviato e dovrebbe arrivarvi eccola qua questa mail di avvenuta protocollazione esatto a me in realtà è arrivata con di nuovo il pdf del questionario tolgo la condivisione quindi mi vedete sì non so se io ho finito se Erika vuol dire qualcosa se magari io ho dimenticato qualche passaggio